Tutto sommato le piogge che sono cadute dall'ottobre 22 al marzo 23, la somma di questi valori sono abbastanza simili a quanto è avvenuto mediamente negli ultimi 30 anni, diversamente da quanto è avvenuto nel 22, quindi il periodo ottobre-dicembre 21 più gennaio-marzo 22 hanno un valore molto più basso e anche se ci spostiamo a guardare i primi tre mesi dell'anno abbiamo un andamento più o meno simile. Questo per quel che riguarda il nostro comprensorio. Situazione totalmente diversa per quel che riguarda il bacino padano. Nel bacino padano, soprattutto in Lombardia, un po' meno in Piemonte, è piovuto molto meno rispetto al passato e la cartina di Tornasole, l'indicatore complessivo di questa situazione è dato dal livello del fiume Po. È praticamente uguale a quello del 22, che fu l'anno peggiore degli ultimi 50-60 anni, a seconda di chi lo dice. E quindi per un verso abbiamo una situazione locale abbastanza leggermente migliore dell'anno scorso, ma la prospettiva futura ci pone una situazione di crisi come l'anno scorso. Ovviamente potrebbe venire a piovere da qui ai prossimi mesi, però la partenza è sicuramente pessima, diciamo così. Sicuramente il 2023 sarà un anno complicato, complicato per quanto riguarda l'irrigazione e l'approvvigionamento idrico. Chiaramente noi abbiamo maturato esperienza nel corso del 2022 e faremo di tutto anche nel corso di quest'anno per utilizzare meglio l'acqua e risparmiarla il più possibile. Gli agricoltori poi ovviamente saranno attivi e anche collaboreranno effettivamente con il Consorzio di Bonifica per gestire al meglio la risorsa, però purtroppo i dati ci consegnano in prospettiva mesi di grande passione. Quindi insomma purtroppo se non dovesse piovere a causa dell'assenza di precipitazioni nevose sulle Alpi soprattutto, se non dovesse piovere in questi mesi rischiamo davvero di avere un'estate torrida e complicata per quanto riguarda la gestione della risorsa. Oggi serve più che mai non solo il commissario, non solo una cabina di regia per quanto riguarda il Paese per la gestione della risorsa idrica, serve soprattutto qualcuno che decida come utilizzare l'acqua nel bacino del Po perché è evidente che quello che succede nel delta del Po in un qualche modo è condizionato dalle scelte che vengono fatte a monte. Quindi noi invochiamo la possibilità di un soggetto, un commissario che abbia più poteri e che possa gestire ovviamente l'acqua con due grandi obiettivi. Di ripartire in modo equo l'utilizzo della risorsa idrica di quella che avremo a disposizione e dall'altro lato guardare con attenzione agli effetti dell'ingressione del Cuneo Salino perché non possiamo pensare di ridurre troppo le portate del Po perché questo determinerebbe purtroppo degli effetti disastrosi non solo per l'agricoltura ma anche per la biodiversità del parco. Quindi è chiaro che in questa fase in cui le opere partiranno ma non saranno utilizzabili ovviamente nel 2023 il tema della gestione è l'elemento più importante.